Ci sono dei generi comunque che un po' bisogna convincere le persone a guardare, secondo me per esempio le serie animate, tante persone dicono io la serie animata non la guardo perché i cartoni non mi piacciono, invece se uno un po' si impegna alla fine piace, no? Si rivolgono a un pubblico più alto Ciao, sono Francesco Giano E io sono Giulia Valentina Questo è Shoff, il podcast di Wilco prodotto con Sky Italia che racconta come sta cambiando il mondo dell'intrattenimento Chiacchierando con i suoi protagonisti Oggi parliamo di come stanno cambiando le serie tv con Salvatore Esposito Uno che è un fanatico di Game of Thrones, ha iniziato lavorando al McDonald's ed è il volto di uno dei personaggi più popolari della storia della tv italiana, Jenny Savastano Allora io dopo questa tazza me la rubo, eh Va bene, cos'è Sky questa? Io sono un collezionista di tazze Io ho quelle dei Royal Weddings, sai quando si scusano i reali? Sì, fanno tutti questa oggettistica orrenda con le foto sopra Tipo io ho quella di William e Kate a casa Perché è trascissimo avere quella cosa lì, no? E mi piace un sacco servire E io le scelgo per i miei ospiti anche Ho adibito una mia cameretta a postazione computer e tutto ce l'ho lì sopra Pensavo come una camera di tazze No, 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 una mensola, una mensola delle tazze Ma ce n'ho alcune tipo la mia serie preferita, non so se dopo ve la spoilerò Comunque ho questa mega tazza dedicata alla mia serie preferita E qual è la tua serie preferita, scusa? Game of Thrones Ah, attenzione Tu l'hai visto? Ho visto e posso parlare anche della mia tazza? Sì Io ho la tazza di The Office con scritto World's Best Boss E anche io ho una tazza dedicata alla mia serie preferita Tu hai delle tazze? Perché sei sospettosamente silenzioso No, io ho le tazze del mercato, quelle comprate del mercato You can't relate a questo discorso di abbassionati di tazze No, non c'è niente No, c'è la tazza di Will, però no Ma scusa, Game of Thrones è tua serie preferita? Così proprio sbazzi sul tavolo Credo che per complessità, qualità artistica Scrittura, mezzi a disposizione Caratura e archi dei personaggi Non ci sia paragone con nessun'altra serie Io mi ricordo ancora il momento delle nozze rosse E dissi, ma sai quando ti sale l'adrenalina Che dici, non sta succedendo davvero Il tempo quasi si rallenta E dici, ma cosa sta succedendo? Allora, tu pensi che io nell'ultima dannata stagione Gli episodi, no tutti credo, li ho visti in contemporanea Con l'uscita americana C'è l'episodio che credo sia il 2 Che è l'epilogo, diciamo così, credo di tutta Game of Thrones Con cui Arya Stark, che secondo me è il personaggio con l'arco più bello e più riuscito di tutta Game of Thrones Ammazza il re della notte E fa scomparire tutti i Nightwalkers Io ho visto tutto l'episodio Non so se vi ricordate che era quello buio Quello che tu hai criticato perché è buio Io me lo ricordo perché io chiudevo tutto in casa Io l'ho visto Ed ho un televisore, un 60 pollici Bello grande così Tutto il tempo di lato, in piedi Vicino allo schermo, con le braccia incrociate Per tutta l'ora dell'episodio Talmente dall'adrenalina, dall'ansia che avevo Hai risultato perché poi ci sono tutti i video su YouTube delle reazioni Io li adoro quelli lì Io ho una collezione salvata su YouTube di video, di reaction Ad alcune cose in generale Tipo l'Italia quando vinse il mondiale L'Italia quando vinse con la Germania, non il mondiale Che era ancora più bella secondo me quella lì Ho alcune reaction, alcuni episodi di Dragon Ball Se sei un grande appassionato pure di manga, anime Quali erano le tue serie preferite da bambino? Sono cresciuto nell'epoca di MacGyver, Supercar, Hulk Ve lo ricordate? MacGyver erano gli anni 80 proprio Era lui, ex agente segreto A-Team, ti ricordi? A-Team, certo Musica anni 80 con i synth sparati Capelli lunghi dietro, MacGyver aveva questo taglio degli anni 80 con i lunghi dietro La punta da terra si andava avanti per 50 minuti senza alcun senso Poi si arrivava agli ultimi tre minuti in cui c'era MacGyver che ti costruiva una bomba nucleare con una spilletta Era fighissimo Lui era il moderno Art Attack Cioè lui riusciva dal nulla a crearti qualcosa che tu dici No vabbè ma non ci credo Cioè tipo se eri in una stanza come questa chiusa Lui riusciva a costruirti un carro armato E doveva come ha fatto? Non si sa però Riusciva a fare E lì non c'erano le polemiche su rischio emulazione No? Come ci sono state adesso Ma no Ma perché Solo quando si parla di mafia o di criminalità Si pensa all'emulazione Lo è stato dal padrino Fellas, Sopranos, Gomorra Quindi A te ti hanno mai fatto critiche su questo? Mi hanno fatto? Critiche personali su questo O meglio Non so il tuo personaggio è pericoloso Il tuo personaggio Ah sì Dopo la prima stagione Sono nate lì tutte le pubblicità Con la parola senza pensieri No? Quella Viaggia senza pensieri Paga senza pensieri Quelle sono nate tutte dopo Gomorra Tutti quanti parlavano per i modi di dire di Gomorra Con le frasi di Gomorra E poi un'altra cosa particolare Che quelle state lì Molti Tra calciatori Ragazzi Così Si Facevano il taglio che avevo io Durante la prima stagione La cresta E che l'emulazione si limita al taglio E però ti dico Che molti Pseudo intellettuali Associavano il fatto di farsi quel taglio Al mitizzare Un personaggio Che era un camorrista Questa è la mia reazione in generale Quando si parla di emulazione Che spesso Soprattutto in Italia Però spesso in generale Viene strumentalizzata Viene utilizzata per scopi politici Per scopi pubblicitari Anche perché poi Chi era la voce fuori dal coro Dopo il successo italiano Internazionale di Gomorra Le critiche super positive Così La voce fuori dal collo Che diceva Eh però Così creata emulazione Si faceva pubblicità Perché era l'unico coglione Che diceva questa roba qua Quindi Non so se Già Volevi fare l'attore da piccolo Però ci ha colpito il fatto Che tu hai lavorato da McDonald's Storia molto americana Abbiamo detto Vero? Per me Quella A 18 anni È stata l'opportunità Più semplice Per trovare un lavoro Che fosse Retribuito Che fosse Regolarizzato Che Non fosse Il solito Cameriere Che inizia Non sai quando finisci Sottopagato Oppure Lavori in cucina Che inizia Non sai quando finisci Sottopagato Che cosa facevi? Io ho fatto tutte le mansioni Sono partito Dal Dal crew di sala Poi ho fatto Cucina Poi cassa Poi sono diventato Prima manager E poi direttore Del locale In cui lavoravo Sì Due anni fa Ho iniziato A collaborare Con McDonald's Da star Da star Ho fatto Ho fatto dei video Con loro Quindi è stata Una bellissima Una bellissima esperienza Io ho visto Che McDonald's E sono molto Fieri Dei loro Ex dipendenti Perché specialmente Poi negli Stati Uniti Ho fatto una piccola ricerca Dopo aver letto Questa cosa Di te E c'è Rachel McAdams Che ha fatto Mean Girls Vabbè Poi ha fatto Mille altre cose Che anche lei Aveva lavorato a McDonald's C'è una serie Di altri attori Tipo James Franco E lui mi ha fatto ridere Che diceva Che faceva pratica Di voci diverse Quando le persone Ordinavano Al drive-thru Pharrell Williams Che ha detto Che si è fatto Licenziare tre volte Oltretutto Da McDonald's E Ah Anche Jeff Bezos Jeff Bezos Stai lavorato a McDonald's Sì Infatti questo Non te l'ho detto Ti volevo sorprendere Con Jeff Bezos Credo che lui Adesso possa comprarlo McDonald's Tu ci fai lo spot Lui Compra direttamente Tutta l'azienda E per ultima Sharon Stone Che non avrei detto Ha 19 anni Quindi È una buona base Per iniziare a fare L'attore Praticamente E credo sia In generale Una buona base Un buon ambiente Dove iniziare A confrontarsi Con il mondo del lavoro Io Dai 18 ai 24 anni Ho lavorato al McDonald's Full time Sì Poi Una sera Tornai a casa Dissi ai miei genitori Che Non era quello Il futuro In cui mi rivedevo Così decisi Di trasferirmi a Roma Iniziare a studiare Recitazione Con Beatrice Bracco Un acting trainer E quindi Inizi a bazzicare Un pochino i set No no Faccio Faccio Un piccolo ruolo Nel clan dei camorristi Dei cortometraggi Prima anche Da quando avevo 18 anni Esperienze di questo tipo E poi arriva L'opportunità Gomorra Come funziona L'audizione I provini Perché Su Gomorra Io praticamente Era andato lì A fare da spalla I provini Non so se avete mai visto Delle Sì Dei video Di audizioni Io sono quello Che sta dietro La telecamera Che dà le battute Agli altri attori È successo Che Dopo un paio di giorni Il regista Stefano Sollima Che era lì Iniziò ad interessarsi A me cose Che poi lui dopo Mi ha detto E praticamente Dopo una decina Di giorni Mi chiesero Di fare il provino Per Jenny Dopo che avevano visto Circa 1200 ragazzi In quanto tempo Scusami 1200 ragazzi Hanno visto Un anno Un anno di casting E quindi Quello che Mi dissi E dissi anche La mia famiglia Dissi Vado lì Mi faccio conoscere Dalla casting director Che è Laura Muccino E invece La vita Ha deciso Di regalarmi Qualcos'altro Posso dire Che Laura Muccino È la signora Dei casting italiani Io sono un po' Feticista dei titoli Di coda E vedo casting Laura Muccino Ma ce ne sono tanti Bravissimi in Italia Anche io sono fan Dei titoli di coda E certe volte Mi diverto A proprio guardare Alcuni molto random Tipo assistente Di non so che cosa Poi li cerco su Instagram Gli faccio i complimenti Per quel film Ma tipo Però Proprio una persona Che dice Ma come mi ha trovato Magari lo io Molto bello Comunque bello Veramente Magari questo Non so cosa Che stesse facendo Anche perché Pensa che Noi siamo soltanto La punta di un iceberg Ah quante persone sono Beh per esempio Su Gomorra Erano In generale Anche più di 200 persone E com'è la vita Sul set Sul set di una serie Così lunga Voi quanto girate l'anno Che ne so Come sono i tempi Giravamo Per capire Quanto giravate Eh beh 7-8 mesi Ok Per una stagione Per una stagione Per ogni singola stagione Però non è Almeno in Italia Non è sempre così Diciamo che Gomorra Anche per la qualità Che aveva Aveva degli standard Molto alti Ok Quindi noi Giravamo Dai 15-17 giorni Ad episodio E Questo non è Uno standard Normale Calcola che Una serie media Gira 8 scene Al giorno Noi ne giravamo Massimo Due E tutto il resto Diciamo è tempo di attesa Come dicevi anche Sul set No 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 Non è tempo di attesa È tempo che tu impieghi Per far rendere Quella scena Al meglio Dando qualche inquadratura In più Soffermandoti un po' di più Sul lavorare Sulla luce Con gli attori Rileggere bene La scrittura Se è necessario Apportare modifiche Quindi vieni scelto Per interpretare Jenny Tu quanto Sai poi Di quel personaggio Sai tutta l'evoluzione Che farà Ti dicono tutto Ti trattengono Alcune informazioni Quindi quanto lo conosci Poi veramente Jenny Dall'inizio Allora Di Jenny Io conoscevo abbastanza L'unica piccola cosa Che poi ho scoperto Dopo Due Tre mesi È che Jenny Alla fine della prima stagione Sarebbe morto E quella cosa lì Da un lato Mi 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 spiazza E dall'altro Invece Mi Mi rende Consapevole Del fatto che io avrei dovuto Impegnarmi al massimo In quella stagione Fare E dare Il meglio di me Tanto che poi Alla fine della prima stagione Diciamo così Hanno deciso di non Far morire Jenny Sì Perché Forse si erano accorti Che il personaggio Poteva dare ancora tanto Quindi A me fanno impazzire Queste dinamiche Dove magari Si vogliono liberare Di un attore Quindi dicono Facciamolo morire A questo punto Sì Accade No A voglia Però poi dall'altra parte Ci sono delle Delle situazioni Dove invece L'attore non vuole più Tornare Come in Sex and the City E accade Lo stesso Kim Jones Si chiama l'attrice Di Sex and the City Che non è più tornata A fare Samantha E come hanno dovuto Incastrare questa cosa Nella serie È drammatico Perché Dicono Si è trasferita Improvvisamente Non ha dato notizie Questo accade Per esempio Anche quando Un'attrice incinta Che spesso Riscrivono Accompagnano Questa Maternità Anche nella serie Oppure quando Un attore Un'attrice muore Era successo Nei Soprano La madre di Tony Soprano Doveva continuare Per tante stagioni Durante la prima stagione O la seconda Non mi ricordo Muore l'attrice In sé E quindi la devono far morire Anche nella serie Non era assolutamente previsto Infatti una scena Che tu la vedi Che ti stona C'è Tony Soprano Che va a buttare L'immondizia Torna in casa E c'è la moglie Che ti dice Hanno chiamato Dall'ospedale Tua madre è morta Spang Punto Finisce la Capita Tu preferisci Il binge watching Ti guardi tutto Appena uscito O riesci Ogni tanto O preferisci appunto L'uscita Settimanale Dove È una bellissima domanda Ti ringrazio Perché da un lato Io sono uno di quelli Che vuole gustarsi Le cose Piano piano Anche se poi Maledice Quando finisce un episodio Devi aspettare una settimana Per guardarlo Però allo stesso tempo Quando Mi piace una serie Io guardo pure 3-4 episodi Alla volta Quando finisce subito Maledico Il fatto che dovrà aspettare Un anno Se tutto va bene Per la seconda stagione Io ho un'analogia Per questa cosa Hai presente che I gatti Gli puoi lasciare il cibo E loro Vanno E prendono Quello che gli serve E lasciano poi il resto Si sanno dosare Invece i cani Se gli lasci il cibo Se lo mangiano tutto E io Con le serie Sono come un cane Con il cibo a disposizione Cioè Mi gonfio Finisco alle 4 del mattino Il giorno dopo Sono distrutta Magari pure Mi sono persa Dei pezzi belli Di quella serie Quindi O uno si sa dosare E ce la fa Oppure magari Se la guarda Con una persona Che ad un certo punto Ti dice basta Andiamo a dormire Così Ma io se sono da sola Rischio di andare avanti Fino alle 4 del mattino Game of Thrones È una serie Che io ho visto Tutte le stagioni Credo ormai Quattro volte Adoro E ogni volta Maledico il fatto Che non c'è una roba Stile Matrix Che mi faccia Dimenticare Di averla vista E mi faccia Avere uno sguardo Nuovo Quando la rivedo Però si prova Questa sensazione qua Di essere invidioso Per chi non ha ancora Visto una serie E dici Dio non hai ancora visto Game of Thrones Beato te Che te la puoi vedere Per la prima volta Però allo stesso tempo Sei lì Che dici Ti vorrei dire delle cose Ma non le capiresti Cioè Soprattutto Game of Thrones Se tu Ne parli Io dico No ho visto dei video Però ci sono i draghi Le magie Invece no Cioè Il fulcro Di Game of Thrones Non è tutto quello Che c'è attorno Ci sono dei generi Comunque che Un po' Bisogna convincere Le persone A guardare Secondo me Per esempio Le serie animate Tante persone dicono Io la serie animata Non la guardo Perché i cartoni Non mi piacciono Invece se uno Un po' Si impegna Alla fine piace No per esempio Io cerco di convincere tutti A vedere Bojack Horseman Che mi piace tantissimo Ma molte persone Mi dicono Ma è una serie Animata Sono cartoni Non la voglio vedere Invece secondo me È scritta benissimo Però perché La maggior parte Del pubblico È quella che è cresciuta Con i Simpsons Per esempio Con South Park Con Questo tipo di serie Animate Che Hanno però Un racconto Che è Per la maggior parte Rivolto ai ragazzi Mentre ci sono Alcune serie animate Di questo livello Ma tantissimi anime Per esempio Che oggi ci sono Si rivolgono In un pubblico Più alto Rispetto a quelli A cui ci rivolgevamo Cioè che Avevamo noi Da bambino Facci qualche esempio Che me ne vado a vedere Beh allora Per esempio Io sono Diciamo che Sono cresciuto Con Dragon Ball Però poi La mia Cartone Non so Anime Manga Chiamalo come vuoi preferite È diventato Naruto È lì Naruto di combattimenti Sì Però ecco Non è semplicemente Quello Cioè Mi voleva uccidere Quello sguardo Adesso Giustamente No 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 Ecco perché Poi ritorniamo A quel discorso lì Cioè se tu lo guardi Dall'inizio alla fine Ci sono così tanti temi All'interno Di questi prodotti Che non sono semplicemente Ormai dei cartoni animati Ci sono La lealtà I valori Rispetto Il rapporto Padre figlio Il rapporto Con Dove sei nato Come sei nato Sotto quale casata Sei nato Cioè C'è molto altro Che Per esempio Oggi C'è un'innovazione Che secondo me Portata dalla qualità E dai mezzi Che hanno a disposizione Cioè ci sono Alcuni videogame Che sono delle vere e proprie Serie TV Solo che sono Interattive Ti parlo di Per esempio Io ho avuto modo Sia Lo scorso anno E quest'altro Che quest'anno Di giocare a due giochi Secondo me sono bellissimi E infatti Faranno poi Serie tv Che la prima È The Last of Us Mamma mia Che bellezza The Last of Us parte seconda Che l'anno scorso Ha vinto Tutti i premi possibili Ma quella Se ci giocavi Era una serie L'unica differenza Che eri tu Ad avere Il controllo Del personaggio Però Era Era un vero Obligato Non era come gli Open World Io Per esempio Ho finito di giocare L'altro ieri È God of War Che è Ragnarok Che è Secondo me Sì Che ha Una struttura Al di là della qualità Secondo me c'è per esempio Elder Ring Che a livello grafico A livello Di struttura È meglio Però Se tu la guardi Come me Da Un occhio Tecnico Perché Faccio quello di mestiere Ci sono Delle relazioni C'è una scrittura Dietro A questo Videogioco Che sono Paragonabili A le serie tv A i film Di alta qualità E se tu ci pensi L'industria Dei videogiochi Fattura più Dell'industria Cinematografica Nel mondo Secondo te ci sarà Sempre più un'unione Tra serie E videogiochi Serie tipo videogiochi Un gioco Un gioco Sì 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 Uscirà a gennaio Se tu ci pensi Per esempio Alcuni videogiochi Riescono ad incassare 4-500 milioni di dollari Solo in vendite O in componenti aggiuntivi Quindi Pazzesco Che bisogna fare un discorso Anche relativo agli attori E alle attrici Oggi per esempio Ci sono attori e attrici Premi Oscar Di altissimo livello Di altissima qualità Che partecipano alle serie tv Quando sono stato a Los Angeles Ultimamente Mi hanno fatto Mi hanno detto una cosa Che loro Avendola sotto mano L'hanno notata di più A Hollywood Boulevard Ci sono quei mega Manifesti Che pubblicizzano I film E loro dissero Che fino a dieci anni fa Tutti questi manifesti Erano solo Di film Come mai secondo te Ci sono più serie E beh perché Innanzitutto Le piattaforme Hanno Riversato All'interno dell'industria Un quantitativo Di soldi Enorme Che è Più facile Oggi fare una serie tv Che un film Che non sia per piattaforma Se una serie Non ti piace La finisci lo stesso No no Bravo neanche io No no Ho una repulsione Non stupido C'è un termine bello Secondo me Che è stato Coniato da un critico Americano Mi sembra Che è Jump the Shark Non so se l'hai mai sentito Che quando appunto Una serie di successo Arriva un momento Dove un po' inizia A decadere Che è tratto Da un episodio Di Happy Days In cui Fonzi Fa questo salto Con una moto d'acqua Salta questi squali E un po' Questo critico Ha detto Ok siamo arrivati Un po' alla frutta È un po' quello Che accade con alcune serie Infatti la difficoltà Più grande È quella di capire Quando bisogna fermarsi George Martin Che lui ha detto Per me Game of Thrones Doveva finire Tra altre 3-4 stagioni Non doveva interrompersi All'ottava Però lì poi Subentrano altre cose Perché i creatori I showrunner Che avevano in mano Il progetto Non era più lui Ma erano due Showrunner Che secondo me Infatti il grande problema Dell'ottava stagione È che è stata un po' buttata Hanno accorpato Tante cose È vero Perché avevano fretta Di chiudere Sì E perché avevano fretta Di chiudere Probabilmente per accordi Che avevano loro Per stanchezza Perché poi Che cosa accade Che in una serie Come quella Gli attori Più vanno avanti Più chiedono soldi E quindi I budget Del sopra la linea Quindi a volte Quando si rendono conto Che Non hanno voglia O non hanno altro Non hanno accordi O non hanno così Preferiscono Interromperla Se no devi fare fuori Quelli che chiedono di più Improvvisamente Nella stagione Dopo tutti i morti Spesso accade Nella scrittura Dove ci sono quelli Che si travestono Da morte Sono accordi Quindi dicono Tu vivi Tu muori Tu muori Eh sì Spesso accade anche Per esempio Che lasciano Un finale aperto Dove tu non sai T'hanno sparato Ma non sai Se sei vivo Se sei morto E utilizzano Quel momento lì In fase Contrattualistica Dove dicono Se troviamo l'accordo A queste condizioni Ti lasciamo vivere Se no Per noi Puoi essere morto In quella scena Che ridere Bellissimo Ma scusa invece Ciro Di Marzio Che alla fine Della quinta stagione Sembra che muore No Della terza stagione Della terza scusa Tu li spari Quella è stata Quella è stata Un'intuizione È stato un colpo di scena È stato un momento Utile per fare Secondo me Un passaggio importante Che è quello Di collegare Il cinema Alle serie tv Spieghiamo un attimo Cosa è Sì Nel finale Della terza stagione Jenny spara A Ciro Che per un caso Fortuito O per una volontà Stessa di Jenny Non si sa Questo non è dato Saperlo Non muore Non lo colpisce In modo fatale C'è questa Questa mano Che si muove di Jenny Jenny su una nota Fatta dai bravissimi Mokadelic Che rilancia poi Alla grande Sulla seconda stagione Perché tutti vogliono sapere Se Jenny è vivo O Jenny è morto Io credo di aver ricevuto In quel momento Sui 3000 messaggi Whatsapp E sui vari social Per capire Quale sarebbe stato Il futuro di Jenny Voi avete dei contratti Fortissimi Per non Sì Si può dire Cosa vi succede Se voi spoilerate qualcosa Ti scuoiano No Ci sono delle cose Penali Delle penali Da pagare E' mai successo Qualche attore Non per forze Di Gomorra Beh io C'è una roba Fighissima Che all'inizio Era E' accaduta Involontariamente Ma che poi Hanno utilizzato Secondo me In modo molto geniale Nel marketing C'è per esempio Tom Holland Che non riesce A stare zitto Spoiler a qualsiasi cosa E all'inizio Vi capiterà di andare Su Youtube Ci sono dei video Dove fanno vedere Tom Holland Che involontariamente Fa degli spoiler Enormi E credo che la Marvel All'inizio L'avrebbero voluto Ammazzare E l'hanno Nell'ufficio del marketing Della Marvel Credo In uno Degli Avengers Hanno fatto questo Siparietto molto figo Tra Tom Holland E Mark Ruffalo Che gli aveva inviato La locandina Credo fosse O Endgame Non mi ricordo Quale dei due E lui fa questa diretta Su Instagram Dove la mostra Guardate che figo Una figata Bellissima Tutti i personaggi Così Poi la gira Per vederla lui E dietro c'è scritto Top secret Non divulgare Non diffondere Prima dell'uscita Così E lui fa Che figo Poi la rigira Legge E fa Così Stacca la diretta Quindi sono stati bravi A rigirare Questa Questa Attitudine Allo spoiler Di Tom Holland Bello Non la conoscevo Sta storia E ritrovate i video Basta metterci YouTube Tom Holland Spoiler Arrivano Quando dicevamo Quando dicevamo prima Che magari alcune persone Non guardano Game of Thrones Perché è un po' Può risultare anche Una serie violente Magari anche Gomorra Comunque alcune persone Dicono Caspita è un po' violenta Non riesco a guardarla Io penso che quando guardo le serie Vado su un sito Che non so se conosci Che si chiama Does the dog die dot com Perché io sono molto Mi dispiace troppo Se muoiono gli animali Quindi questo sito Che si chiama Does the dog die dot com Ma se muoiono dove Nella serie Non riesco a guardarlo Quindi ho cercato Ma guarda Credo che sia Quasi sempre finta No ma certo Però non riesco a guardarlo Mi fa impressione Tipo i draghi I draghi In Game of Thrones Cioè sto ancora male oggi A pensare a quella scena Dove muoiono i draghi E quindi ho cercato Più degli umani Sì ma dai Scusa è certo Se c'è questo sito È perché c'è un sacco di gente Come me Che quando guarda le serie Dice aspetta Prima di iniziare Devo sapere se muoiono degli animali Perché non riesco a guardarla Se no no E ho cercato Gomorra Gomorra E c'è proprio segnato Esattamente il minuto In cui Non glielo dico Muore Ah sì In cui muore il cane Di Donna Emma Eh sì lo ammasso io Lo so Lo so E c'è proprio segnato Perché ti dicono Quando puoi schippare Però non si vede Sì c'è anche segnato quello Però ti dicono Ma è descritto molto bene Poi ci muore un altro cane Anche E credo di ammazzarlo sempre io Eh ho capito Non vorrei dirlo Cioè tu sei nemico Di questo sito Does the dog die dot com È la superstar Cioè sei la super Cioè sei proprio segnalato A questo punto No sì credo che c'è il wanted Sì esatto Non vorrei Adesso non lo dico Cioè aspetta L'altro cane Vediamo Vediamo quant'è Che stagione Sì sì No è segnato In modo molto preciso Assolutamente Perché quelli Cioè c'è Season one episode seven Around Thirty nine minutes And thirty seconds Proprio ci sono segnati Emma's dog gets shot Its body is showed For a brief moment È fatto vedere Per un breve momento Poi season one episode twelve Ventiquattro minuti e venti secondi Un altro cane a caso Viene ucciso A caso pure Dodicesimo episodio Della prima stagione C'è neanche una motivazione Eh sì credo si Però lui c'era la motivazione Perché il cane lo aveva morso Quindi è giustificato Sì sì Nella Però questo è un altro cane a caso E vincerò poi un premio Come miglior ammazzatore Però di animali Eh Di fizione Ah i draghi te li segnalano Sì li segnalano No ma ti segnalano Tutti gli animali Ma con una precisione Precisione incredibile Però sì House of Dragons Lo sto guardando Bellissimo Sì credo che La seconda stagione Sarà un mortorio Però Ok Per gli animali Sì per me Quello è Perché inizia la danza Dei draghi E nella danza Dei draghi Muoiono tutti i draghi No ma i draghi Sono così pochi Che dici Ma come fate Eh no In House of Dragons Sono abbastanza Sì però comunque Sai che sono Sono molto Cioè Non ci saranno più Poi nel futuro E quindi li vuoi Tenere in vita Per avvicinarci ai tempi Attuali Tu hai lavorato anche a Fargo Nella quarta stagione Interpreti Gaetano Fadda Gaetano Fadda Qual è la differenza Che noti di più Tra i set italiani E i set esteri Cioè cosa Per esempio Che in America Esistono Gli stand in Cioè che sono Delle comparse Di solito Delle figurazioni Che vengono tenute Lì Durante tutto L'arco del progetto Per ruoli più importanti Che siano protagonisti O coprotagonisti E loro Si occupano di fare Tutte le parti Di settaggio Delle luci Delle camere Delle cose qua Riesce ad essere Quanto più concentrato Quanto più Rilassato E quanto più Fresco possibile Ne giova il progetto Però Sembra che in Italia Questa cosa Non la capiscano L'Italia La definisco Come la piccola bottega Dell'artigiano Dove Di tanto in tanto Viene fuori Il prodotto Di una qualità Eccelsa Fatto dai manuali Fatta con Grandissimi artigiani Che poi noi abbiamo I nostri truccatori Parrucchieri Direttori della fotografia Scenografi Lavorano Nei più grandi Set Mondiali Quindi Su questo Noi Possiamo dire La nostra E secondo me Dal punto di vista Produttivo Che dovremmo fare Un passo in avanti Per Fare uno step In più Le serie italiane Quante ne escono L'anno Lo sapete voi? No Ma in generale Noi siamo Come prodotti Cinematografici E seriali Siamo sui Sotto i 300 Progetti l'anno Ok Ok Tu pensi che in Francia Ne fanno Circa 800 In Francia E in America Ne fanno 3000 Per esempio Un'idea Che ho avuto io E che non so Se riuscirò mai A farla attuare In uno dei Dei progetti A cui sto partecipando Sarà una battaglia mia Ci proverò Vai E portare le serie Al cinema Cioè Trasmettere un episodio Della Della serie Una volta a settimana Al cinema Così se tu vuoi guardarla Devi andare in sala A godertelo Perché Io ho visto Mi pare Ho la seconda O la terza stagione Diedero in anteprima I primi due episodi Di Comorra Al cinema Tre giorni prima Che uscissero poi Su Sky E incassarono Un botto E vi posso garantire Che guardare Un film O una serie Che ha una qualità Al cinema Non ha paragone Con nessuno schermo Nessun impianto audio Nessuna comodità Che hai a casa Questo potrebbe essere interessante Cioè io Personalmente Credo che ci andrei Per abitudine Se mi vado a vedere Cinque puntate Al cinema Ok dico Mi passo questo pomeriggio Mi vedo tutta la serie Di cinque puntate Andamene a vedere due Ogni settimana Cioè la dovresti Creare come abitudine Però per esempio Ti faccio un esempio Ci sono serie Che stiamo Sviluppando Che Probabilmente Avranno Un Un taglio diverso Cioè non so se voi Sapete che al di là Delle serie Fatte Da episodi Di Tra i 40 E i 50 Minuti Che si dice Taglio inglese Tra i 40 E i 50 Minuti Poi c'è una serie Fichissima Che vi consiglio Che si chiama The Beer Su Disney Plus Che è una roba Bella Che angoscia A me ha folgorato Quella serie Che figa Durano gli episodi 26 minuti 28 Ah io non me ne sono accorta Perché l'ho guardata Tutta di fila Molto bella Se li guardi bene Durano così poco Poi c'è per esempio Un'altra Un'altra Su uno dei nostri progetti Stiamo cercando di fare quello Cioè unire due episodi E renderli Rendere dei mini film Cioè rendere Che ne so Invece di 8 episodi Da 50 Farne 4 Da 90 Da 100 E quindi è come se fossero 4 mini film E quindi tu Se ogni settimana Vuoi vedere I due episodi Che poi in realtà Sono uno soltanto Come se andassi a vedere un film Dovrei andare al cinema Questo interessa Progetto del futuro Unire serie E cinema Di Salvatore Esposito Da un'idea di Salvatore Esposito Sì non mi daranno mai diritti Però Tanto l'ho detta Ragazzi Io direi di liberare Salvatore Esposito Ma possiamo dare tre consigli Di serie da guardare Assolutamente sì Perché io le vorrei sapere Una a testa dai Una a testa No tu Dine tre Ti prego Perché già so che dirai Game of Thrones Quindi già una Non l'abbiamo Io dico una mia Mentre ci pensi Handmaid's Tale Ok L'hai vista? No Devi Bella Tu anche devi Io no E lo so che E io se devo farne una Fleabag Bellissima Due stagioni che si vedono Entrambi in una serata Bellissime come un film Mi è piaciuto tantissimo Beh vado più sul classico Dico Sopranos E Breaking Bad Diciamo che per ogni Osservatore di serie Che si rispetti Non può Non aver visto Game of Thrones Sopranos E Breaking Bad Che Dipende dai gusti Ma credo che Oggettivamente Siano le tre serie Più fighe Che abbiano mai fatte Grazie Salvatore Grazie a voi Ah E logicamente Comorra Chi non ha visto Saluto Showoff è una produzione Will Media Sky Italia Autori Francesco Giano E Giulia Valentina Pura editoriale Riccardo Bassetto Produzione Giada Archidi E Silvia Calarco Regia Maurizio Stanzione Marco Berton Scapinello E Antar Corrado Colorist Luca Gambelli Motion Graphic Angelo Gioia Sound Design Lorenzo Marsiglia Distribuzione Will Media Sky Italia